Lino Guanciale Lino Guanciale, un attore unico, disponibile con il pubblico come nessuno Lattore Lino Guanciale sta attraversando un momento importante nella sua carriera che è coincisa con la maturazione a livello cinematografico, il successo al botteghino di Arrivano i Prof conferma questo dato di fatto. Il carattere che distingue Lino Guanciale dagli altri attori risiede nella sua semplicità, che gli ha permesso di creare un rapporto unico con lo spettatore come conferma il grande seguito ottenuto a teatro nel corso degli anni. Lattore abruzzese sarà impegnato fino alla prossima settimana sul set della seconda stagione della serie Lallieva, ispirata alla penna della scrittrice Alessia Gazzola e basata sulla vita di Alicia Levy. Quali sono le novità e curiosità principali riguardanti l'attore abruzzese Lino Guanciale, protagonista delle fiction di Rai 1. Quando tornerà sul piccolo schermo con la seconda stagione delle serie Lallieva e la Porta Rossa. Il set della serie televisiva Lallieva ambientata a Roma. Molte scene della serie Lallieva sono state girate a Roma, in particolare a Villa Celimontana, fino ad arrivare ad Ostia. La seconda stagione della fiction potrebbe andare in onda nel mese di ottobre ma non sono giunti comunicati ufficiali, si tratta di un'ipotesi plausibile visto che ha avuto inizio il 27 settembre 2016. Il primo episodio dellallieva si intitola Le ossa della principessa e vede la presenza di nuovi protagonisti, come dimostra la presenza di Giorgio Marchesi il cui ruolo non è stato specificato per aumentare l'attesa da parte del pubblico. Il 21 maggio giorno del suo compleanno, le riprese di un'altra serie. Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi hanno formato una coppia amata della televisione ed in particolare dai giovani, il dottore Conforti è uno dei personaggi più attesi dal pubblico insieme a quello dell'avvocato Enrico Vinci. Nello scorso anno Guanciale è stato protagonista sul set di Non dirlo al mio capo 2 per girare la fiction insieme a Vanessa Incontrada, l'ultima puntata è terminata con La verità su Una persona dal passato oscuro. Lino Guanciale Lino Guanciale dopo la fine delle riprese della serie lallieva sarà impegnato a partire dal 21 maggio, giorno del suo compleanno, sul set della fiction La Porta Rossa di cui è protagonista insieme a Gabriella Pessione e Valentina Romani. Quest'ultima ha avuto un ruolo importante nel film dedicato ad Aldo Moro con protagonista Sergio Castellitto, ma la possiamo ricordare per la partecipazione alla fiction A tutto può succedere nei panni di un'amica di Andra. Grazie a tutti!